ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato ai vostri video una nuova puntatona dedicata alle vostre collezioni di orologi che tanto ci fanno disperare nel senso buono nel senso che ci piace vedere gli orologi degli altri gli orologi degli altri una rubrica tipo no gli orologi degli altri simpatico come numero perché perché oltre a far vedere questi pezzi de ferro ci illustrate anche un attimino il vostro percorso in questo simpatico hobby no e quindi perché acquistate un orologio oppure se è un lascito l'eredità di un percorso affettivo ci stanno anche queste cose qua e quindi ci piace come partecipare lo sapete non ve lo dico ormai leggete qua sopra sopra impressione e vi mostro solamente l'orologio del giorno così iniziamo subito che anche oggi è questo bellissimo mido ocean star gmt detto shark squalo per gli indici così appuntiti che lo fanno sembrare un pochino la dentatura di uno squalo un simpatico squalo che io indosso con il cinturino nato che abbastanza estivo e ci piace così mi ricorda un po i colori della bandiera americana ora non è per dire ma bianco blu con la sfera rossa no uno dice è la coccarda americana usa la mia non mi ha buttato questa non prendetela no vabbè dai la barra spaziatrice pronta per subire colpi del destino e che colpi abbiano inizio ciao davide sono barbara della provincia di milano e volevo presentarti la mia piccola collezione la collezione di mio marito gianni e rinnovarti complimenti per il canale che ti abbiamo fatto in occasione del quarto watch meeting iniziamo con due miei quarzi vai il primo è questo watch del 2002 era stato fatto per il fin del 1997 di 007 il domani non muore mai ma purtroppo l'orologio è morto perché anche sostituendo la pila ormai non funziona più che come dici sempre tu la pila è in fingarda è batteria la batteria nemica tu nemica questo bulova da 32 mm 32 mm mamma mia questo secco di mio marito acquistato in svizzera a fine degli anni 70 questo qua è un quarto fine anni 70 è valido a livello collezionistico non mettiamolo tra i quarzoni così come di quelli da profumeria questo qua rappresenta c'è anche la s la q sul quadrante rappresenta le prime edizioni degli erogio al quarto di secco ora vedo che il 12 da su è un po rovinato però vabbè è vissuto è un vintage praticamente bello bello mi piace ormai non indossa più da tempo ma spero funzioni proseguiamo con due long jean che erano di mio papà sono rimasti in un cassetto per circa 30 anni poi nel 2022 mia mamma ce li ha regalati ed erano ancora perfettamente funzionanti abbiamo fatti comunque revisionare li abbiamo fatto sostituire i cinturini per il 30 l abbiamo fatto sostituire anche il vetro perché era scheggiato questo che indosso io è un calibro 847 a carica manuale non ha la lancetta dei secondi ed è molto sottile ed è del 1976 pensate che 30 l che indossa mio marito sempre a carica manuale e del 1967 per entrambi abbiamo chiesto alla long jean estratto di archivio e ci hanno inviato in breve tempo e gratuitamente questo si riferisce a quello che indossa mio marito e questo invece quello che si riferisce a quello che indosso io beh bravo nel 1999 mio marito aveva acquistato questo ivc ingegnere in acciaio calibro gegelle cultra che abbiamo venduto poi nel 2022 in quanto al polso ultimamente li risultava un po' piccolo e poi seguendoti da circa tre anni gli si è risvegliata la pressione per gli orologi meno male proseguo con gli orologi di mio marito il primo è questo bomber si è baumatic da 40 mm quadrante blu con riserva di carica cinque giorni acquistato a luglio del 2022 unica pecca che il certificato cost non viene fornito nella confezione ma bisogna richiederlo alla casa e dopo l'acquisto sì ma sta cosa del certificato cost che non è che deve essere per forza all'interno della confezione ci sono case o anche singoli orologi di una casa e altri no che arrivano con la card a volte al giorno d'oggi con la card una volta arrivava con il foglietto altre volte non arriva niente perché mi sembra di aver capito che per avere un il resoconto completo costa di più alla casa stessa quindi però potrebbero anche loro stessi mandati qualcosina per certificare che quel cosino lì è stato passato no però vabbè ma comunque non è non è quello che che fa la differenza questo quale bomati che incassa il calibro di fornitura sono di manifatture se non mi sbaglio non vorrei dire una castroneria se non ricordo male funziona così proseguo poi con i seguenti tre che sono stati acquistati in ordine di tempo da settembre 2022 a maggio 2023 direttamente in negozio dal bon giacomo dove ci siamo recati personalmente il primo è questo moris la croix icon da 39 mm quadrante grigio braccialato bello bello grigio magari un po meno mi piace però blu 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 carriera blu tanta roba uno zenith cronomaster original da 38 mm bello cinturino blu bell'acquistone questo bravi conosciuto meglio come il ma il primo al primo al primero al primo a 386 ben ultimo orologio Zulu time è questo Longin Zulu time e quadrante blu da 39 mm certificato cosc anche questo braccialato certo tanta robina bravi, belli acquisti nulla da dire e per ultimo questo Omega Seamaster acquaterra da 38 mm quadrante blu certificato Metas anche questo braccialato bene Davide io ho finito ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato grazie a voi un caro saluto a te, a tutti gli amici del canale e all'amico Piero love ciao carissima Barbara grazie per questo simpatico e alquanto dolce video veramente rilassante il marito lì ha dei belli orologi se li hai presi un po' tutti noi in un botto però belli orologi tra l'altro l'ultimo l'Omega Quaterra certificato Metas cosa gli vuoi dire in quel caso lì invece a differenza degli altri marchi e qua il prestigio il blasone si vede oltre ad avere la card Metas insieme nella scatola puoi andare sul sito web aprire il tuo account inserire il seriale dell'orologio e ti vengono mostrati tutti i risultati che il tuo orologio ha fatto durante i test Metas capito? in questo caso proprio non ci si può sbagliare e d'altro l'altro la differenza anche di blasone di regio di fascia di prezzo comunque 4 orologi di Carrera Maurice Lacroix Icon L'Ogine Spirit Zulu Time e Omega Acquaterra io gli darei proprio veramente ha vinto il tuo marito ha vinto perché ha comprato 4 orologi da tenere per sempre praticamente cioè non è che poi vabbè che chiaramente ognuno di noi poi a un certo punto anch'io sacrifica qualcosa per prendere altro ma in teoria sono orologi di cui non pentirsi proprio dell'acquisto complimenti bravi bravi vi aspetto il quinto watch meeting ah no c'è già stato quindi cosa vi aspetto al sesto prossimo ciao Davide ciao Armando da Roma complimenti per il canale grazie un saluto a te un saluto a tutti gli amici appassionati che ci stanno guardando questo che ti faccio vedere è uno dei tanti orologi che ho avendo questa passione da anni ho circa 50 anni e quindi insomma fin da quando ero piccolo questo è il primo orologio che ha segnato la svolta verso l'orologeria meccanica che è avvenuto negli anni 2000 e passerò incarellata velocemente perché questo è il secondo Hamilton in successione da qui poi è partita la scimmia giralo e non mi son più tenuto questo è un vintage zenith capitano oro al quale ho trovato la sua mi sembra un po' larghino il suo ardiglione e mi sembra un po' larghino l'ardiglione e l'ho arricchito e completato in questa maniera bravo è un orologio a martelletto bumper così chiamato il calibro per la sua funzione questo lo conosci perché hai avuto modo di indossarlo al quarto watch meeting è un Jagger Kulter classic piccolino ma sul mio 17 e mezzo di polso lo trovo azzeccato ci piace a seguire abbiamo questo tank della carchiera un tank solo automatico un orologio quando ho stato ultimamente per una cerimonia devo dire che in quell'occasione con un vestito hai fatto il figurone la morte sua veramente un orologio elegante questo lo conosci bene è uno speedmaster che in collezione secondo me ci sta tutto ci sta sì assolutamente ne deve far parte questo nella particolarità è un 1861 è un orologio chiaramente a carica manuale ho messo questo cinturino ci sta bene ci sta bene bravo il suo bracciale è riposto nella confezione anche questo conosci questo è un orologio un diver incredibile qualità superlativa lo so i riflessi ora con la luce artificiale non rendono ma è un orologio insomma che fa parlare di sé per la qualità i riflessi perché c'è il quadrante che lo vedete qua con le quelle fessure è inossido di zirconio un tipo di ceramica quindi il quadrante in ceramica così vi assicuro che alla luce del giorno attira lo sguardo delle persone proprio è una botta di vita veramente è un orologio che percepisce il pregio lo percepisce subito con quegli indici lì il rilievo sul quadrante in ceramica bello bello sono proprio contento di avercelo anch'io costruttiva i materiali nonché per chiaramente la precisione incappiamo in casa rolex che non mancano mai in una collezione questo è stato arricchito con un bracciale jubilee arricchito questo è un modello dell'86 vetroplastica in questa configurazione con quadrante argente argente incredibile veramente di una eleganza e bellezza quasi disarmanti considerando l'età è un orologio che veramente non lascia bocca aperta ogni volta che lo indosso mi incanta veramente mi incanta questo è l'iconico sun mariner questo è un 41 mm ora lunetta ceramica lunetta acciaio ognuno scelga il suo ma devo dire la verità che comunque questo qui rimane sempre un oggetto bello explorer 2 nella configurazione nera mi piace molto di più del bianco e questo è un calibro 31 86 è un orologio che per anni è stato abbastanza snobbato un po' il fratello minore di tutti gli sportivi della rolex ma che fortunatamente negli ultimi tempi ha avuto il suo meritato riconoscimento bene GMT bello del 2001 con questa lunetta blu e rosso sbiadito spettacolo la lunetta così sbiadita è uno spettacolo lo so che siamo malati perché uno dice no è un difetto è un difetto si è scolorita la lunetta l'inserto ghiera in alluminio si scolorisce soprattutto è rosso e qua si va è un po' come nei tatuaggi perché nei tatuaggi il rosso è il colore che tende a sbiadire di più a scomparire è più difficoltoso da in generale sono i colori il rosso il giallo e qua la curiosità è che anche qua il blu è rimasto praticamente intatto e il rosso è sbiadito quasi completamente però è il suo bello c'è un mio caro amico che ha lo stesso orologio con la lunetta così e lui non essendo un appassionato un intenditore qualche anno fa mi disse l'ho portato da un orologiaio per fargli cambiare l'inserto ghiera e mi ha detto di lasciarlo così stupito e in effetti deve essere lasciato così perché rappresenta il suo vissuto e che io sappia vengono più ricercati questi qua che quelli d'altronde poi la modernità ha portato a fare gli inserti ghiera in ceramica che non scoloriranno mai questo sulla carta poi bisogna vedere nel tempo cosa succederà fra cento anni magari sono tutti crepati una loro caratteristica di effetto potrà diventare quello non lo so però molti cercano questa versione queste versioni così vintage vissute questo tocco i personalità devo dire la verità che questo è una colorazione che sinceramente rispetto alle colorazioni un po' arlecchinose di altri modelli la reputo più interessante la qualità costruttiva rolex che poi uno possa amare o meno la maison quello è un altro discorso ma indiscussa la storia si va bene la qualità di rolex è indiscussa però nel momento in cui te vedi un inserto ghiera sbiadito vuol dire che la qualità non c'è capito è un errore vogliamo mettercelo in testa la ghiera sbiadita è un errore non avevano previsto non è di qualità poi è chiaro che il tuo resto è di qualità non fia poco ho preferito questa configurazione tutta acciaio perché nel mio immaginario nella mia mente ho sempre avuto questa figura di Daytona e mi è sempre piaciuto non che il la lunetta diciamo in ceramica si possa dire che non sia bello e che renda strepitoso l'oggetto ma per me il Daytona è questo va bene bello non può mancare il Tudor questo è il 5858 un orologio che 5858 5858 ha realizzato sicuramente anche ascoltando gli appassionati con questa misura 39 con queste dimensioni che lo rendono più indossabile ma che comunque avvicina accosta quello che è lo stilema di Tudor che si può ammirare ad esempio in questo gonfia che è il GMT veramente bello bravo dir se ne voglia comunque è caratterizzante delle linee Tudor un mattoncino piace o meno non è obbligatorio prenderlo ma chi lo prende lo apprezza questo che a te sta piacendo come casa è un Luminor Marina Titanio carica manuale il Titanio l'ho preso per agevolare l'indossabilità dell'oggetto lo rende più leggero non di meno fascino e devo dire la verità che è un oggetto strepitoso questo è del 2011 con il suo caratteristico quadrante a sandwich Skin Diver 42 mm questo è stato preso al posto del 39 scelto perché il Diver deve essere grande è un po' come dire un Pilot piccolo non lo vedo me lo sento meglio come presenza come come caratteristica ognuno ha scelto il Cronomat acciaio oro quadrante bianco ripeto i colori troppo arlecchinosi non li non li non li digerisco e questo invece mi sembrava un connubio perfetto di oro e acciaio con questa quadrante bianco e il suo tipico e riconoscibile bracciale a cartuccella va bene Davide va bene grazie e un caro saluto a te a tutti quanti e complimenti e grazie infinite per lo spazio che ci dedichi un abbraccio un abbraccio grazie a te non ti si può dire un cazzo proprio veramente cioè tutti i orologi che vorrei avere anche io poi va al di là un po' dei gusti no eh sì io il GMT non me lo comprerei però per l'amore del cielo tanta roba tutti questi orologi il Legendive è da 42 ecco l'esempio di uno che preferisce gli orologi un pochino più di presenza ce l'avevo anche io da 42 però io preferisco il 39 attualmente col suo bel bracciale a chicchi di riso un bel bel 39 mi piace di più però tutto il resto ragazzi che dirti ce l'avevano tutti Cartier Rolex Tudor Brightling bravo bravo belli orologi complimenti non so più che dirti perché finalmente abbiamo visto una carrellata di orologi come si deve bravo buonasera buonasera Davide buonasera a tutti i ragazzi che seguono il canale il canale si va bene però guardiamo un pochino cosa ci propone l'amico perché sapete che gli amici del canale hanno anche piacere di mettere in mostra le altre loro passioni e spesso sono a sfondo musicale qui troviamo Blandi che è chiaramente no degli anni 70 così come David Bowie molto molto ancorato agli anni 70 e poi c'è il pupazzetto lì con la chitarra ma non riesco a capire chi sia con quel capello lì sarà Bob Marley se è Bob Marley bah mancino bah vabbè Bob Marley non l'ho mai sopportato io ve lo dico chiaro e tondo con quella chitarra in levare oh ma per l'amor del cielo ragazzi del gruppo Telegram che praticamente mi hanno un attimino salvato la vita perché io alla tenere età di 40 anni mi sono appassionato agli orologi qui ma due sabati fa sono andato in un negozio e mi hanno consigliato di comprare per soli 700 euro questo orologio qui che è un Jacques Le Mans dicendomi che era automatico ma in realtà questo è un misto tra un automatico è un come un misto dico per carità bellissimo ghiere in porcellana vetro zaffero al polso stupendo però per 700 è automatico sinceramente volevo comprare altro e per fortuna i ragazzi di scusa secondo mando un attimo indietro perché non ho visto il fondello dell'orologio polso stupendo stupendo non capisco il fondello come cosa c'è non capisco se c'è una batteria e il rotore sarà mica un un kinetic un calibro no non lo so io vabbè non c'ho feca dai Jacques Le Mans dai via 300 euro sinceramente volevo comprare altro e per fortuna i ragazzi di del gruppo telegram mi hanno consigliato di virare su altri orologi e quindi io essendo poverino due settimane fa ho fatto una follia ho comprato i miei primi due orologi automatici che mo ti faccio vedere il primo è questo bellissimo ti so si star di cui mi sono follemente innamorato che importante è quello se sei contento te è il secondo il mio preferito è questo qui Hamilton qui sono ancora più follemente innamorato cos'è il cacchio filtro in titanio questo qua in titanio non vi so dire bene tutte le specifiche tecniche perché comunque sono anche un po' timido poverino ma poverino voglio solo ringraziare tutti davide e quelli del gruppo telegram perché porca miseria guardate quanto cavolo è bello ciao davide fammi sapere che ne pensi ah comunque questi due orologi li ho presi ripeto qualche settimana fa a 1600 euro entrambi un saluto ciao 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 e cosa ti posso dire ti so Sistar Hamilton Cacchifield sono due capisaldi dei rispettivi marchi però quello che non comprendo sinceramente no vabbè che sei timido sei neovita tutto quello che vuoi ma così di primo a Kito tu due orologi non ha senso ma nemmeno io comprerei due orologi lo stesso giorno o la stessa settimana cioè è veramente incomprensibile controproducente diciamo perché poi cosa fai ti dividi tra loro due questa qua è la cosiddetta fame di voglia di avere oggetti no subito velocemente perché poi se ci pensi bene 1600 hai detto che hai speso per tutti e due beh con 1600 magari ci potevi incominciare a prendere anche un longi che forse da solo era meglio di quei due lì lo butto lì vabbè comunque ognuno fa quello che vuole ti hai iniziato adesso poi sei sempre in tempo a venderne uno quello che meno ti appassiona prendere qualcos'altro insomma il solito percorso che fanno tutti comunque non hai sbagliato se prendevi quell'altro laggiù a 700 euro sì che sbagliavi cioè è anche difficile dire uno sbaglia prendere una cosa o no però li sbagliavi Jacques Le Mans che roba è gliel'adoro così sono in pace con me stesso ciao Davide sono Stefano da Roma il medico scacchista ricorda bravo sì e oggi ti aggiorno sul mio stato della collezione vai facci vedere con gli orologi che ho comprato negli ultimi due mesi e comincio dagli orologi di forma ma che cosa sono? dopo aver comprato un reverso della GGLQ gonfiammelo non ho resistito e appena visto questo Cartier Tank di piccole dimensioni l'ho acquistato un orologio splendido elegantissimo le ridotte dimensioni stanno bene sul mio polso da 17,5 e poi io lo concepisco in questo modo questo orologio è un Tank quadrato non l'avevo mai visto io altro orologio di forma è questo Longin Evidenza eccolo lì cassa Tonno o a barile se preferite eccolo qua Longin Evidenza c'era un amico che in qualche video fa si lamentava del fatto che nessuno parlasse del Longin Evidenza che è un po' eccolo qua c'è qualcuno che c'è che ce l'ha è un orologio che insomma non è un mainstream non è un orologio che chiunque come primo acquisto come c'è brama per avere un Longin Evidenza con la cassa Tonno Tonno no è un processo che magari è un orologio da persone un pochino più mature orologisticamente parlando ci devi arrivare ad un certo punto del tuo percorso in questo hobby non è che è uno di quegli orologi che uno lo vede dice lo voglio lo voglio lo voglio ci devi arrivare piano piano come l'amico qua che è un appassionato di lungo corso che la sa lunga e quindi ha preso il Longin Evidenza eccolo qua orologio molto elegante elegante terzo orologio di forma è questo Hamilton Trent ma hai mai sentito orologio di forma quadrangolare anche questo secondo me un orologio probabilmente sottostimato e che comunque evidenzia una certa eleganza e anche una certa originalità non assomiglia a nessun altro bello poi ho proseguito comprando questo cronografo gonfiamelo Zenith è il primo Pacific della metà degli anni 90 che bellino che è questo appena l'ho visto me ne sono innamorato un orologio secondo me splendido tenuto in ottime condizioni revisionato recentemente cosa dire e niente hai fatto un bel acquisto orologio che dà grosse soddisfazioni grosse soddisfazioni proprio grosse bravo poi per quanto riguarda gli orologi diciamo eleganti everyday watches watches o dress watch constellation ho comprato questo Omega constellation in oro anni 90 orologio splendido 36 mm diametro cassa monta il calibro 1111 che è un età 2892 tutto in oro orologio splendido e certo coevo fibbia originale si che evoluzione ha fatto è constellation da quei tempi lì a oggi poi sono passato a un rolex deathjust sempre metà anni in ombravo orologio con lunetta e indici in oro bianco estremamente elegante e lo indosso molto spesso fai bene non contento non sei contento no è anche tentato da un mio amico venditore ho comprato anche questo rolex deathjust 1603 anni 70 con color champagne per brindare un incontro del quadrante bravo per brindare molto bello anche il bracciale jubilee tanto basta spendere spendere adotto infine un altro digest ho comprato questo orologio della baltic un micro brand francese seriamente interessante il modello MR01 carino dai perché molto bello mi è piaciuto molto il richiamo degli indici alla calatrava del pate e philippe è bello è bello è bello orologio stiamo parlando di due orologi di livello completamente il micro rotore interessante questo orologio bello è anche rifinito bene qui si può notare il micro rotore eh sì un orologio che fa una sua bella figura diciamo ora qua questo dovrebbe essere di estrazione cinese questo questo calibro con micro rotore se non sbaglio però è ben rifinito mi sembra bellino poi ci metteranno le mani loro credono da notare come facevo notare mi ripeto nella recensione della UMA con calibro di manifattura micro rotore che qua i piccoli secondi sono esattamente ad ore 8 quindi non c'è nessun rimando per portarli al centro senza creare quel fastidioso gioco della sfera dei secondi che aveva la maggior parte come dicevo degli orologi dei calibri con micro rotore presenta la secondina sul quadrante come vedi caro Davide ultimamente la mia passione per gli orologi sta virando mi sto avvicinando sempre più al neo vintage e credo che questo sia una caratteristica abbastanza comune nel senso cambiare direzione all'inizio ho comprato sempre orologi nuovi però ultimamente mi sto innamorando dei neo vintage e magari il prossimo step sarà per i vintage e con questo ti saluto ti ringrazio sempre per lo spazio che mi dedichi figurati e un abbraccione e un saluto anche a tutti gli amici del canale love 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 neo vintage cosa si intende per neo vintage ma orologi di 20 anni come quello Zeniter Primero magari i primi anni 2000 a fine anni 90 insomma non si possono considerare veramente dei vintage siamo secondo polso vecchio come sono romantico secondo polso vecchio insomma sono veramente volgare neo vintage fa più figo sì sono d'accordo con te anche a me però c'è sempre è richiesta sempre una maggiore attenzione ho preso anch'io il Deville il mio Omega Deville fondo di magazzino dei primi anni 2000 l'ho fatto sistemare quindi ho speso dei soldoni sia per comprarlo sia per farlo sistemare per fargli una revisione perché ha bisogno di una revisione dopo 20 anni lo stesso l'Omega Acquaterra 2002 mi sembra che è preso ho speso dei soldoni fatto revisionare in casa madre riportato a zero praticamente partiamo da lì ecco ora per esempio invece se io acquista ho acquisto un vintage un engine vintage del 1965 no andiamo indietro 65 400 euro 350 euro un solo tempo di quelli no comuni non mi interessa neppure che sia preciso o che sia stato revisionato in quanto ce l'ho a fini collezionistici lì nella mia scatoletta quindi se un giorno non dovesse più funzionare ok lo faccio sistemare ma non mi interessa che sia revisionato non è che lo porto a revisionare a fare il service che mi torni come nuovo per poi utilizzarlo è fini collezionistici quindi il vintage no anni 50 60 70 80 non mi interessa le condizioni del calibro nel senso no che non sia quanto invece devo spendere 4.000 euro per un orologio del 2005 4 3 del 2002 poi lo voglio usare io quell'orologio lì non è che spendere 5.000 euro e poi dopo tenerlo per collezione non me lo posso permettere vuol dire che lo devo usare e per usarlo devo poi ripristinarlo portarlo delle condizioni decenti e che sia funzionante soprattutto quindi il problema è che sta tutto lì a me quelli che comprano mi sono fatto il suo mariner del 96 pigliano se lo mettono al polso come se niente fosse quell'orologio gli ha passato mani mani polsi ha visto tutto deve essere sistemato deve essere sicuro per indossarlo quindi c'è sempre quel contro lì poi vabbè un giorno magari anch'io comprerò orologi del 99 del 2000 del 2001 giusto per collezionare può darsi non è escluso al momento faccio fatica per i motivi che ho detto prima comunque complimenti per la collezione perché non so cosa dirti tutti i orologi super validi e poi sta il fatto che hai preso che il Baltic che è un micro brand francese uno sta a dimostrare che sei appassionato che hai passione perché altrimenti non ce l'avresti lì altrimenti se tu volessi fare un collezionismo per metterti in mostra sarebbero sufficienti quei grandi marchi che hai Rolex Omega Cartier boh basta finita lì non è che ti vai a comprare un Baltic qualsiasi o un micro brand quindi dimostra che hai anche passione quindi ti meriti i miei complimenti bravo dottore non se mai faccia comodo un dottore le chiamogli un pochino l'ascella così si fa comodo prossimo video buonasera Davide buonasera a tutti gli utenti del canale utenti ti mandai un video qualche mese fa oramai non so se ti ricorderai di me per il glass suit original con la riserva di carica carica manuale ti voglio presentare adesso un orologio che ho comprato poco fa un bright ring che a me piace tantissimo imbarazzante il corredo perché un orologio che parliamo di un listino alto si presenta con un robot del genere di cartone riciclato che vabbè comunque il contenuto vabbè il contenuto prima di guardare il contenuto si è così io ho il bright ring con la stessa scatola tutti i bright ring secondo me arrivano con questa scatola qua che non è niente di che ma sinceramente io questo lo dico poco con sincerità della scatola o del corredo a me non me ne frega proprio niente ma veramente cioè lo voglio quando compro un orologio usato voglio il corredo che ci sia la scatola la garanzia i libretti anche le pellicole staccate tutto quello che ti pare a te lo voglio per principio per essere in pace con me stesso però sinceramente della bellezza di quanti cinturini c'è se è fatta di pelle di cervo reale ma non mi interessa non mi interessa proprio niente io quella scatola lì la prendo la metto nel mobile va a finire sta lì nel mobile a fare anche la muffa volendo ma non mi interessa proprio niente quindi lamentarsi delle scatole non vabbè poi ognuno ha la propria sensibilità a te vuoi avere le cose no poi no anch'io quando vedo una scatola di quelle particolari come per esempio Quervo e Sovrinos che sono degli umidificatori per sigari che fai lì per lì e poi dopo me ne sbatto gli scatoloni però ti capisco eh Bratelink Super Ocean Super Ocean 2 ghiera in oro rosso top 42 mm che è la versione più piccola di quella che presentano in catalogo oggi che secondo me è la più misurata sì perché poi c'è la 44 e la 46 Deployant tirata a specchio e bracciale in caociu con il motivo maglia milanese quadrante nero secondo me è bellissimo bello sai sfere e indici in oro rosso dove vai provo a farlo vedere aperto aperto vai questo che è il cuscinetto che mantiene l'orologio in realtà è una piccola pocket da viaggio una piccola custodia che contiene l'orologio comunque il packaging imbarazzante per un orologio con il listino che ha l'orologio è questo eh lo so è bello probabilmente te lo a favore di luce bello secondo me è bello 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 fondello chiuso tutto lucido non ha una parte satinata niente te lo volevo presentare è fatto bene un ultimo acquisto un saluto ciao un saluto finito già e va bene dai Bradley Super Ocean non c'è poco da dire ce l'ho avuto anche io per le mani quell'orologio di spesse volte e ho potuto apprezzarne la qualità chiaramente poi il fatto che sia tutto lucido a volte si prende come un punto negativo un orologio è tutto lucido si graffia ma anche l'orologio è tutto lucido è il suo perché cioè non è che devono essere tutti satinati opachi con le striature perché deve essere il tool watch cioè a volte si vuole anche avere al posto un orologio che scintilla che sparkling che quando uno passa per la strada gli altri rimangono accecati dalle scintille che vedono ci sta specie se poi c'è anche degli accenti in oro come in questo caso cioè non è che si può si prevedere un tipo di orologio o piccoli grandi e in questo caso voglio anche far presente come in questo caso Brightling Super Ocean è presente 42 44 e 46 e così riesci quasi a soddisfare tutte le esigenze tutti i desideri degli appassionati secondo me in tutte le case dovrebbero prevedere delle diverse misure per un modello ci arrivano un po' a step come per esempio il Legend Diver 42 39 36 ora ci sono ma all'inizio c'era solo il 42 del Legend Diver ci sono ancora certe case che hanno per esempio l'Omega Seamaster 300 che è da 42 adesso quello nuovo non mi risulta che ci sia da più piccolo 36 forse 36 c'era prima ci sarà anche adesso non lo so però anche 42 36 sono botte di differenze 42 40 38 insomma dare un pochino maggiore varietà alle collezioni dei marchi dai ragazzi io mi sembra di aver detto tutto perché l'amico qua c'aveva il suo bel Bright e il suo bel Roshan era super contento poi c'aveva il polso c'aveva il Glass Out original tanta roba e tanti soldi bravo bravo a parte che poi non si dice pochette ma si dice pochette insomma dai pochino pochette lo senti proprio che viene fuori in francese pochette mi sono stufato devo andare a vedere i gattini su Instagram ragazzi vi ringrazio per essere arrivati fino qua spero vi sia piaciuto il video il presentatore gli orologi l'orologio del giorno e gli occhiali dell'orologio che non ci sono vi ricordo gli appuntamenti fisici che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su YouTube Love iscriviti al nostro canale